Ciao a tutti, benvenuti nel mio canale. Nuove notizie e un nuovo post sono arrivati da Oji Yagiz e Gokberk Demirci. Condivideremo sempre con voi la felicità di Oji e Gokberk Demirci. Prima di passare al mio video, non dimenticare di iscriverti al mio canale, mettere mi piace e condividere il mio video. I famosi attori turchi Oji Yagiz e Gokberk Demirci sono riusciti ad attirare l'attenzione. Recentemente si sono sposati con un matrimonio segreto per rafforzare il loro amore e la loro relazione. Questa mossa sorpresa ha suscitato scalpore e ha suscitato scalpore sia tra i fan che tra i media. Le giovani star della recitazione turca Oji Yagiz e Gokberk Demirci hanno spesso dichiarato ai loro amici più cari di essere una coppia forte, al punto che hanno affrontato insieme difficoltà e si sono sostenuti a vicenda durante il loro viaggio. Tuttavia, recentemente hanno attraversato un momento difficile nella loro relazione. Hanno preso la decisione spontanea di porre rimedio alla situazione, consolidando il loro legame e diventando ufficialmente una coppia con una semplice cerimonia intima con solo i loro amici più stretti e la famiglia. Il matrimonio ha sottolineato l'amore tra loro evitando di essere al centro dell'attenzione dei media. Dopo il matrimonio, Oji Yagiz ha condiviso un post emozionante e ha detto, abbiamo deciso di sposarci per rafforzare il nostro amore e il nostro impegno nei confronti di Gokberg. È stato un momento davvero speciale per noi. Lo abbiamo condiviso con i nostri cari. Volevamo diffondere felicità.